Ed ecco l'uscita dei giordini Margherita La volta compagine dei maratoneti Con l'accompagnamento musicale Ognuno con il suo pettorale E' veramente un serpentone Un serpentone di ogni età E' un figlio uguale Perché lo potete tanto crescita A te A lui A me Gianni Volandi Che si giacca qui alto E poi basta Ma Praticamente terminata la corsa Chiediamo ad Alberto Bortolotti Una come dire Delle anime di queste manifestazioni Di questa manifestazione Qualche giudizio conclusivo Qualche opinione Intanto i numeri Arantunamp questa mattina Grazie anche al supporto di tutti In particolare di Unicredit Banca Che è il nostro main sponsor Ho radunato qua A Giordini Margherita Che è un po' il Central Park bolognese 10.000 persone Hanno fatto in 2.000 la competitiva E tutti gli altri le non competitive Un esercito Una città quasi intera Che si è mossa Al ritmo Diciamo Dei loro passi Perché il centro è chiuso Per fortuna Grazie a tutti